Venite avanti, fratelli e sorella. Vi accolgo a braccia aperte. Aus, per favore, è la cappella. Il cielo ci ha elargito, il miracolo di un nuovo sintomo. Fratello, illuminaci sul perché il bulbo oculare di questo povero ragazzo si è rovesciato all'indietro. È un altro sintomo dell'appelenamento, la paralisi oculare. La natura maligna è ingannevole, non si deve mai sottovalutare il maestro. Il muscolo oculare non è paralizzato, ha fatto una piroetta. Sclerosi. È più facile per un uomo saggio avere accesso al paradiso. Questa commedia, di che non lo è e basta. Ictus, emorragia cerebrale. Avremmo avuto altri sintomi oltre al disallineamento oculare, magari un coma. Poi tu avevi già detto la tua. È un tumore. Sarebbe sfuggito a tutti i testi. Sarà un microtumore. È iniziato nel polmone, provocando il versamento. Poi è metastatizzato al fegato, dove ha alterato le cellule. In seguito ha raggiunto il cervello dietro l'occhio, causando i movimenti del bulbo oculare. Quindi tutte queste metastasi ci sarebbero sfuggite? Qual è il contrario di miracolo? Ora ho più possibilità di trovarlo. So esattamente dove cercare. Quindi, a meno che tu non abbia un'idea migliore, gli farò un'attacca alla testa. E solo allora, se sarà necessario, rimuoverò l'occhio. Rimuovi l'occhio al ragazzo e gli dimezzi la capacità di avere un contatto visivo.